Sono partiti ufficialmente a Nocella Superiore i lavori di adeguamento della scuola elementare Marco Polo in via Russo per la realizzazione del primo asilo nido comunale. Presente alla posa della prima pietra il sindaco Giovanni Maria Cuofano che ha annunciato anche l'inizio a breve dei lavori di adeguamento della scuola in zona Porta Romana. Interventi strutturali tesiando un recupero dalle fondamenta degli edifici ma anche un lavoro di rifacimento estetico. Cominciamo finalmente i lavori del primo asilo nido comunale di Nocella Superiore che sarà realizzato all'interno di locali riadattati della struttura della scuola elementare Marco Polo in via Vincenzo Russo. Cominciamo il primo lavoro, siamo orgogliosi e questo è frutto di una programmazione oculata sui servizi sociali. Chi dice che si innamora delle forme giuridiche la risposta più concreta è questo lavoro che inizia, un lavoro che noi facciamo all'interno di una programmazione sociale che fino ad oggi abbiamo ottenuto all'interno di una convenzione lavorando come comune per pretendere i nostri diritti e farci valere in sede di concertazione. Asilo nido comunale. Lasciatemi ringraziare la dottoressa Motti, la dirigente del Circolo perché ha colto la nostra volontà di accelerare il lavoro e con grande sensibilità ci ha consentito oggi qui di avviare la prima pietra di uno dei tanti lavori che in ambito scolastico saranno fatti a Nocella Superiore. È di ieri ad esempio la firma del provveditore di Napoli e quindi lunedì prenderanno in consegna anche la scuola di Porta Romana che finalmente vedrà l'inizio dei lavori per realizzare anche lì l'adeguamento della scuola elementare destinata ai piccoli bambini della scuola dell'infanzia con uno spazio esterno, con orto didattico e anche con vetrate. Un bellissimo capolavoro architettonico condiviso con l'ingegnere Zambrano molto conosciuto diciamo proprio nell'ambito degli ingegneri per la sua qualità anche architettonica. Grazie a tutti.